Pazzesco impatto di Gasol, ha ribalzo in attacco, Miller cerca spazio a centro area, scarico per Afflaro, tiro da tre punti di Loso, l'importante, solo sul ferro, Miller addirittura ha ribalzo in attacco contro Gasol, poi l'ha vinto, poi segna, con due punti appoggiati alla tabella, il playground di Los Angeles portato allo Staples. Gli è apparsa la Vergine, sta giocando in un modo inspiegabile Miller, è tutto in questo momento per Denver, li sta portando al guinzaglio i suoi, è nettamente l'unico che sta a giocare a questo livello per davvero. E ragazzi, questa è una giocata da grande pivo degli anni 70. Straordinario Andre Miller, senza atletismo, 12 punti in gara 6 e questi sono i primi due della serata, li mette qui, uno su nove dal campo. Ennesima dimostrazione che non sempre i numeri ti dicono la realtà di un giocatore, cosa vuoi di più quello che ha fatto Miller stasera? Davvero incredibile. E nove rimbalzi e otto assist per lui, che sarebbero gli altri numeri.